Il vice sindaco Sebastiano Baroni durante l'assemblea pubblica organizzata dal comitato ambientalista ha annunciato una nuova ordinanza comunale destinata a creare un serio ostacolo all'insediamento del compostaggio di sfalci verdi. Sarà vietato il transito ai mezzi che superano i centoquintali sul ponte del canale navigabile che collega la frazione Fornace con la strada per Acqua Negra. È un'infrastruttura vitale per il progetto di compostaggio della ditta Sovea che sarà costretta quindi a proporre una viabilità alternativa d'accordo con la società proprietaria del terreno, la Plastico. Non è ancora venuto alla luce il documento sulla verifica della staticità del viadotto la cui manutenzione è a carico dell'Aipo che non ha dato risposte all'amministrazione comunale di cui bisogno del comune di tutelare i cittadini senza però mettere in eccessiva difficoltà le aziende locali storiche. Attualmente non si può arrivare alla sede designata del compostaggio senza attraversare il canale navigabile dato che la rotatoria e la strada concordata con l'industria della zona non sono state ancora costruite. Altro percorso oltre il canale è impossibile perché il proprietario del terreno non vuole vendere. L'assemblea aperta dalla leader del comitato Cristina Cavalli era dedicata all'analisi della conferenza dei servizi dell'8 agosto in vista della decisiva convocazione di venerdì 14 e il medico dell'ISDE Edoardo Bai ha svolto rilevanti osservazioni. Manca nella relazione della ditta la parte sanitaria tra i convocati manca il sindaco di Acqua Negra Lanfredi benché la frazione cade tocchi sia la più esposta. La soglia della formaldeide è più bassa di quanto indicato nei documenti della conferenza dei servizi. C'è un problema nella gestione delle acque poiché manca uno scarico di emergenza e l'impatto olfattivo supera la soglia di leggi indicata dalla regione oltre ai problemi connessi al traffico degli autotreni. Argomenti che hanno rinfrancato la platea tanto che il comitato valuta di emettere una diffida alla ditta sovea. Gran parte dei cittadini informatasi sul progetto è infatti contraria all'insediamento e diverse associazioni cremonesi come Legambiente o Acli si sono dette disposte a sostenere il ricorso al TAR che il comune potrebbe presentare nel caso in cui l'amministrazione provinciale conceda l'autorizzazione al compostaggio. Non pochi gli interventi dei politici dal consigliere regionale degli Angeli dei Cinque Stelle che ha rilanciato la battaglia ambientalista al sindaco di Soncino Gabriele Gallina e Carlo Malvezzi del centrodestra che hanno approvato le scelte del comitato di Crotta ai parlamentari Simone Bossi della Lega e Luciano Pizzetti del PD.